La giornata più difficile per l'ondata di maltempo ufficialmente ancora in atto doveva essere quella di oggi. La conferma dell'allerta arancione da parte della protezione civile regionale ha indotto diversi sindaci, tra cui Francesca Valenti e Carmelo Pace, a emanare nel tardo pomeriggio di ieri una nuova ordinanza di chiusura delle scuole. Provvedimento improntato sulla prudenza, tanto più che le previsioni meteo erano tutt'altro che incoraggianti e che soprattutto non c'era nulla di diverso rispetto alle 24 ore precedenti quando il primo cittadino Saccenza aveva già firmato un'altra ordinanza analoga, cosa che avevano fatto anche decine di altri sindaci. Ordinanza alla numero 91 firmata da Francesca Valenti che circolava già nelle chat di insegnanti e alunni prevenendo addirittura la stessa comunicazione ufficiale alla stampa per non parlare della pubblicazione sull'albo pretorio del comune. Questo per rivelare quanto fosse spasmodica, a dir poco, l'attesa soprattutto nell'ambito della popolazione scolastica di avere notizie certe e soprattutto definitive. Ma se quella che ci siamo lasciati dietro le spalle è stata una notte di pioggia, tutto sommato tollerabile, senza pericoli di allagamenti, la mattinata è scorsa più serenamente rispetto a quella di ieri. Il resto della giornata prevede ancora qualche rovescio, ma ormai probabilmente per questi due giorni il peggio potrebbe anche essere passato. Le previsioni per domani infatti sono migliori, prevedendo delle schierite, situazione migliore almeno dalle nostre parti, ben più complicata infatti la condizione del versante orientale della Sicilia, dove il colore del codice di emergenza già ieri era rosso. Se il peggio è passato per questo segmento temporale, la stessa cosa non può dirsi per un mese di novembre che si annuncia tra i più piovosi della storia. Il territorio tutto sommato a retto, se si eccetto la via Lido, anche se stamattina il transito da quelle parti era regolare. Condizioni climatiche comunque ancora complicate, con venti forti e mare agitato. Sull'allerta meteo il dibattito naturalmente aperto, se è troppo comodo soltanto dopo sostenere che stavolta la chiusura delle scuole non era necessaria, è anche vero che chi ha responsabilità per la pubblica incolumità è chiamato a prendere decisioni di interesse pubblico sulla base delle informazioni di cui dispone in quel momento. È una fortuna poterne avere di informazioni, magari si riuscisse a prevedere terremoti, allora sì che sarebbe ancora più importante poter salvaguardare la collettività. Sciacca però non può avere dimenticato così presto che non più tardi di tre anni fa, il 25 novembre del 2016, un uomo, Vincenzo Buono è scomparso, probabilmente travolto dalla piena dei torrenti e non è più stato ritrovato. Meglio cedere nella prudenza dunque, anche a costo di far fare un giorno di vacanze in più i nostri ragazzi che in occasione di un'altra alluvione, in assenza di disposizioni, si ritrovarono per strada correndo dei pericoli inattesi e insomma finiamola pure una buona volta di fare sempre polemiche su tutto. Grazie a tutti.